Ciao amico! Oggi se compro bene cos'è che mi dai in omaggio? Oggi, serio? La grande sorpresa! Con le chile di carne e le faccio nel timaggio! E guarda, serio? Bum bum cagnolino! Opa! E' bello il bum bum cagnolino! E' bellissimo! 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 Il gioco là su! E' bellissimo! E' la preghiera! E' canna di muslim! Qui cagliare? E' il dottor il migliore cane del mondo! E' capito signor! E' la muslim! E' questo è il modo di fare affari! pure carne